Ritrovata la vittoria in campionato con il 2-1 di Brescia, ora per il Bari è tempo di provare a riannodare il filo del discorso con i tre punti anche in casa. Al San Nicola la vittoria manca dal 2 giugno 2023, 1-0 al Sutirol firmato da Benedetti nella semifinale play-off di ritorno. Altro tassello in una stagione indimenticabile, rovinata solo sul più bello nove giorni dopo dalla vittoria del Cagliari al San Nicola. Dopo i sardi di Claudio Ranieri a Bari è passato anche il Parma in Coppa Italia per 3-0 nella prima uscita della stagione 2023-24 mentre in campionato su cinque tentativi casalinghi il Bari ha sin qui collezionato altrettanti pareggi. Dopo lo stoico 0-0 contro il Palermo tenuto giocando in doppia inferiorità numerica sono arrivate quattro partiti in cui Sibigli e compagni sono passati in vantaggio e si sono fatti riprendere da 1-0 a 1-1 contro il Cittadella, 2-2 contro il Catanzaro dopo essere passati in vantaggio con Cuzzupias e gli 1-1 contro Como e Modena maturati quasi in fotocopia nonostante il cambio di allenatore nel mezzo passando da Mignani a Marino. Il fattore campo per il Bari al momento non è tale a confermare una tendenza già manifestata nella scorsa stagione nonostante un cammino che ha portato i bianco-rossi a 120 secondi dalla Serie A. In regular season erano arrivate sei vittorie su 19 partite giocate al San Nicola mentre fuori casa su 25 sfide lontano dalla Puglia da agosto del 2022 ad oggi sono arrivati ben 12 successi. L'ultimo a Brescia, rampa di lancio verso una nuova fase del campionato, continuità di risultati e l'auspicio tracciato davanti ai microfoni prima da Pasquale Marino e poi dal difensore Francesco Vicari match winner a Rigamonti fresco di rinnovo del contratto fino a giugno 2026. La prossima occasione utile per ritrovare la vittoria in casa arriverà sabato alle 14 contro l'Ascoli quando servirà anche il sostegno del pubblico, mai mancato nemmeno in trasferta come le 900 presenze nel settore ospite a Brescia dimostrano, calato però progressivamente almeno nei numeri al San Nicola. Nelle prime 5 partite interne giocate in questa stagione si registrano 50.000 presenze in meno rispetto alle prime 5 sfide in casa della scorsa annata, nonostante siano stati sottoscritti circa 1.150 abbonamenti in più. La media spettatoria è di 19.500 a partita, l'anno scorso erano 29.500. segnali da una piazza che spera di ritrovare presto l'entusiasmo di pochi mesi fa, rivisto a metà ottobre in occasione dell'arrivo della Nazionale per la partita di qualificazione a Euro 2024, vinta per 4-0 contro Malta per risalire posizioni in classifica. Ora serve spugnare il San Nicola.